Ferdinando Rebecchi, responsabile del network Consulenti Finanziari LifeBank. I LifeBanker hanno con i loro clienti una relazione davvero forte, quindi per definizione sostenibile nel tempo. Per questo ci chiamiamo così LifeBanker, banchieri della vita, in ogni fase e per tutta la vita del cliente, con un modello di servizi e di offerte incentrato sulla cura di tutto il patrimonio familiare ed aziendale, tutto ciò che per il cliente ha un valore patrimoniale, sogni e futuro compresi. Proponiamo soluzioni di investimento socialmente responsabili, convinti che le aziende che avranno più futuro e che creeranno più valore nel tempo sono proprio quelle aziende che hanno a cuore il futuro del pianeta e delle persone che lo abitano. Per proteggere e valorizzare il patrimonio dei nostri clienti con un servizio di consulenza evoluta e personalizzata. Contiamo poi su un modello ricco di tutte le soluzioni che la nostra banca, il nostro gruppo, i nostri partner hanno da offrire a privati ed aziende. di prenderci cura di tutto il patrimonio dei nostri clienti con grande senso di responsabilità per contribuire allo stesso tempo alla costruzione di un mondo sempre più sostenibile, ma orgogliosi anche di essere la rete di consulenza finanziaria in Italia che ha la percentuale più alta di consulenti giovani under 30. Insieme possiamo credere nel futuro.